Non esiste altro meraviglioso giorno che l'oggi che stiamo vivendo. La gente che vive sempre pensando nel futuro, nel futuro, non prende l'oggi come viene. E' gente che vive nella fantasia, non sa prendere il concreto del reale. L'oggi è reale, l'oggi è concreto. E la preghiera si dà nell'oggi. Gesù ci viene incontro oggi. Questo oggi che stiamo vivendo. Il tempo è nelle mani del Padre. E' nel presente che lo incontriamo. Né ieri né domani. Oggi. Oggi incontro Dio. Sempre c'è l'oggi dell'incontro. Oggi. Grazie a tutti